Per tornare dopo nel sedicesimo episodio di Bloodborne, come sempre sono un gioco da ruoto Eccoci qua al cacciatello dimenticato di Kainhurst Allora, vediamo un po' E da un'arrivo di qui Steguriamo un tiro di prima tutte queste maledette E devo abbassare un po' il volume credo, forse no Boh, comunque Continuiamo la nostra scalata verso la vetta Sarà abbastanza lunga la cosa Poi queste che urlano non aiutano Sono abbastanza fastidiose, devo dirlo Muori anche tu Bravissima Ce ne stanno parecchi ragazzi, quindi Abbiamo un po' di pazienza Uccidete le tutte e possiamo andare avanti Senza troppi problemi Oh, ecco il nostro primo pezzo di pietra di sangue Bene, bene, bene Gli ho fatto pure il backstab non volendo, ottimo Per l'arrivo è abbastanza echi, devo dire Manco pochissimi Vediamo un po' Qui A far troppare qualcosa? No, ok Ciao Muori Allora, allora, allora Ancora Ma quante cacchio siete? Non mi ricordavo così tanto Non mi ricordavo così tanto Ragazzi E questi poveracci che puliscono per terra Non si sa quanti secoli Per te li trovano tutto sto sangue per terra Altra volta Oh, seriamente Poveracci Allora Per sentire che parla a bassa voce È perché Devo cercare di non farmi sentire Altrimenti mi rompono le scatole Allora Fuori una Infila le altre corrette Allora Io ve lo dico Quella matematica Ha fatto leggermente schifo Ah, seriamente Qui ce ne stanno altre Da far fuori Eccone un'altra Meglio farle fuori tutte Uno E due Perfetto Qui ci sta un baule Che voglio aprire Perché qui Contiene Il nostro Ultimo pezzo Di privaggiamento Se non l'unico Eccolo qua Vestito Una nobile Allora 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 Poi diamoci il resto E mettiamoci solo questo Praticamente Siamo una signora adesso Bene Ottimo Non potevo chiedere di meglio Anche perché Prima non si assomigliava quasi per niente A una donna Ma a dettagli Allora Qui ci sta A un nuovo tipo di nemico Ragazzi Quindi Stiamo attenti Anzi no Più che altro Stavate attenti voi Perché io lo so che c'è E dovrebbe trovarsi Qua Esatto Questo Signori miei È un Gargoyle Un Simpaticissimo Gargoyle Che Troppa Fra me Di gemelli Che schifo Fidatevi Non fanno mai Anche tu Fa mi piacere Di sparire Magari Non devo morire Bravissimo Così mi piace Saliamo di sopra Allora Qui c'è qualcosa Solo lui È un oggetto Che è un altro pietro di sangue Perfetto Con questa possiamo portare Più sei La nostra arma Ciao Muori Non è morto Figura di merda Qua c'è Grazie caro Scusate un secondo La torse Mannaggia Vedimi morire Grazie Ora c'è un altro nemico Qui dentro Che è leggerissimamente Più Bastardo Perché c'è un Dannatissimo Stocco E quindi È decisamente Più veloce Degli altri Fidatevi L'ho provato Sulla mia stessa pelle Ok Qui c'è uno short Che attivare Tra poco Che ci porterà Alla base Della torre Quindi Vicino Alla lanterna Magari Se ne attivo Uno alla volta È meglio Ma ovviamente L'ho attivato Di più che due Simpaticissimo Grazie E sono morto Sinceramente Nel tempo Di sovravvivere Ma quanto pare No Me l'hanno buttato Direttamente Là dove non batte Il sole Grazie Ragazzi Sempre molto Gentili E vabbè Facciamoci Una Rasciamo Va Di certo Mi metto Ammazzano La torta Quelle Soprattutto Queste Soprattutto Ai 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 Io che speravo Non morire mai In questo castello Sono morto Ottimo Devo dire Che I miei buoni Propositi Vanno sempre A buon fine Allora Saliamo di sopra Di nuovo Cerco di non parlare Così mi concentro Anche perché Ragazzi Non mi va di perdere Gli egg Che ho trovato Preso Fino adesso Come potete Ben immaginare Quindi Beh Forse è meglio Uccidere anche lui Ma sparisci Frammenti gemelli E altri Frammenti gemelli Bene Schifo Non mi fanno Di certo Allora Di nuovo Tu Ci rincontriamo Dopo poco tempo Devo dire Come vedete Getan Non ne fa Piedi di sangue Schifo Non fanno Ok Siamo tornati Al punto di prima Dove siamo morti Vediamo un po' Dove sta Nei nostri egg Soprattutto Dove sono Eccoli qua Però io Quello oggetto Lo vorrei Quindi Belli miei Ove muovete Ove muovete E che porca Droda Petto di merda Sto perdendo Un sacco di Chiali di sangue Per colpa vostra Ok Andati Prendilo Frammenti gemelli E frammenti gemelli Di petto di sangue Ottimo Può parlare Veramente poco In questa sezione Non va bene Non va bene Sapete che Vediamo Ma chi se ne frega Qui c'è qualcosa No E ora Possiamo Attivare Lo short Cut Eccolo qui Registri Vile sangue Scendiamo Di sotto E possiamo Attivare Lo short Cut Bene Così Questo ci sarà Estremamente Utile In futuro Torniamo Alla lanterna E direi che Ragazzi Lo so che questo video È venuto un po' corto Ma Non posso farlo durare tanto E vi è unica Se vi è visto il video Lasciate il like Un commento E sempre se volete Iscrivetevi al canale Al vostro Giorno È tutto Day All love Giorno Presidente Qui